Ragazzi, manca sempre meno all'evento totale di mercoledì della big guerra all'interno della big vanilla su minecraft Quindi benvenuti e bentornati in questo nuovo video Oggi il vostro big generale de mark preparerà le armi per questa guerra bellissima Mi raccomando ragazzi, forza che pollice di su Cerchiamo di superare, ne chiedo veramente tanti, ma so che li possiamo raggiungere 15.000 mi piace per queste nuove armi, per il miglioramento delle armi appunto all'interno della big vanilla ragazzi Molto importante Allora, io direi come sempre prepariamoci e andiamo subito verso la casa che ormai è diventato un quartier generale Che sì, è la casa del guerriero Kendal ragazzi, non lo metto in dubbio Però comunque è anche un pochino il nostro quartier generale Perché sapete che ormai stiamo preparando lì tutte quante le nostre armi Stiamo lì preparando tutti quanti i nostri oggetti E oggi, oltre che a preparare le armi, andremo a preparare anche pozioni, mene d'oro E chi più ne ha più ne metta ragazzi Perché noi del regno della big regina dobbiamo essere iper 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 pronti Abbiamo una ambil che è tutta quanta un pochino distrutta E se non mi sbaglio qua ho del ferro e poter creare anche una nuova ambil Quindi già che ci siamo ragazzi ci facciamo la nuova bellissima ambil Con un po' di blocchi di ferro Quindi uno, due, tre in questo modo E poi facciamo così, uno, due e tre E ci facciamo una nuova ambil così Perché non ho sentito il rumore dell'ambil che si creava? Ma ora l'ho sentito a piazzarsi, vabbè fa niente Allora, comunque dicevo All'interno di questa cassa ho preparato degli oggetti che serviranno appunto per l'episodio di oggi Perché se vi ricordate ragazzi nello scorso episodio Già abbiamo creato un bel po' di armi, un bel po' di attrezzi Poi dopo andremo anche a migliorarle Perché come vedete per esempio questa qui ragazzi non è enchantata Questa solamente è un breaking 3 Questa solamente non sharp nessuno Questa ascia qui è veramente molto forte Però sarà marce decidere se vuole questa ascia o questa spada Quindi diciamo che un po' di scelte l'abbiamo ragazzi Più abbiamo tutti quanti questi archi Ragazzi guardate qua dentro cosa abbiamo Abbiamo quasi una doppia cassa di libri incantati Ma sono dei libri incantati belli potenti eh Perché per esempio abbiamo un breaking 3, abbiamo un tonus 2, abbiamo infiniti per un arc Abbiamo un protection 3, un fire aspect 2, un power 4 Quindi in realtà ragazzi siamo messi veramente molto ma molto bene con gli oggetti Solo che adesso è il momento di incantare In più con noi abbiamo anche brewing stand Perché prepareremo anche delle pozioni Non vi farò vedere tutte quante le pozioni Perché non voglio dare troppi indizi al regno diciamo in generale del big reni oscuro Però comunque daremo il nostro fio da torcere Perché per esempio qua abbiamo Questo bellissimo frammento di occhio E questo frammento qua di occhio ci servirà appunto Perché ha delle pozioni anche di invisibilità Però prima di tutto devo andare a riempire un po' d'acqua queste boccette Perché se no sì ragazzi sicuramente qua dentro non riusciamo a prendere nulla Quindi andiamo un attimino a riempire queste boccette di acqua Aiaio Ste cavolo di bacche potremmo utilizzarle come armi ragazzi Fidatevi Oh cacchio abbiamo un piccolo problemino di riempimento Allora qua saltiamo direttamente sulla bacca perché mi piace E andiamo a riempire queste boccette Così facciamo le prime pozioni di invisibilità Perché sono molto molto utili ragazzi E ci serviranno assolutamente Quindi qua piazziamo altre boccettine d'acqua Qua piazziamo altra gunpowder Non so perché stavo dicendo gunpowder E di qua invece mettiamo della netherworld Per creare anche delle pozioni di strength Che anche queste qua ci serviranno veramente un sacco Poi droppiamo via queste pozioni Queste boccettine di acqua E recuperiamo anche queste qua che avevamo perso In più quasi quasi carichiamone altre Quanti slot abbiamo? Ancora uno e così siamo a posto E almeno sotto l'altro pozione ragazzi siamo un pochino coperti Perché nella scorsa battaglia eravamo completamente scoperti Non avevamo pozioni Non avevamo miglioramenti Avevamo pochissime d'oro E in più ho ascoltato anche l'idea che ha avuto Kendall L'altro giorno di piazzare qua sotto dei letti Perché nel momento in cui magari noi durante la guerra perdiamo vite Possiamo comunque respawnare in questa zona Ed è molto utile come cosa Perché qua dentro riempiremo con tutti quanti oggetti Super super utili per la nostra battaglia Per esempio qua metterò magari delle mene d'oro Mene d'oro che posso craftarmi già in questo momento Quasi quasi Quindi io quasi quasi le crafto già ora Anche se non abbiamo tantissimo Non ho tantissimo gold Ma ho già mandato Nico anche in missione Per prenderne anche altro Veramente tanto ce ne servirà in realtà ragazzi Perché per esempio abbiamo solamente 11 mene d'oro in questo momento E ce ne serviranno veramente tantissime Frecce ne abbiamo perché abbiamo una farm di scheletri E quindi anche sotto quel punto di vista si è messi molto molto bene Però è arrivato quel momento ragazzi Guardate quanti livelli abbiamo Abbiamo ben 98 livelli Sono tanti ragazzi 98 livelli sono veramente tanti Quindi direi partiamo subito Uh primo incantesimo flame Allora Ottimo Perché è ottimo ragazzi Flame Però speravo in un punch o un qualcosa Un power Qua power 3 Poi vediamo qua un breaking 3 Ci escono solamente incantesimi da Uh infinity Power 3 un breaking 3 Bello questo arco Poi continuiamo Un altro arco con flame Quindi incantiamo Flame infinity Mamma ragazzi Ma che archi ci stanno uscendo E poi qua un bel power 3 Ok vediamo Power 3 flame Mamma mia Ragazzi Osserviamo Perché magari c'è qualche arco Che non ci fa tanto impazzire Per esempio Questi due Che hanno solamente un incantesimo Power 3 Un breaking 3 Li possiamo togliere E possiamo anche rifarli ragazzi Quindi lanciamoli direttamente qua dentro Magari in questo modo Un breaking 3 Ok questo qua Lo ricarichiamo Questo è un power 3 E ricarichiamo anche questo Ma dai Ma ci prendono in giro Allo stesso incantesimo di prima Allora Con molta calma ragazzi Riproviamoci 1 e 2 Flame Un breaking 3 Ok Qua ci metteremo noi Un bel power Qua un altro un breaking Ah questo un breaking 3 Ragazzi è la maledizione Degli un breaking 3 Ok riproviamoci Allora Power 4 Oh Power 4 Beh ragazzi Un power 4 Non lo disegniamo per niente Intanto qua Come stanno andando le pozioni Ok Weakness Abbiamo fatto quelle di weakness Ma scusatemi Non si facevano con l'occhio fermentato Quelle di invisibilità Perché ho letto Qua non succede Aiuto Sto sbagliando tutto Ah perché dopo la Awkward potion Dovremmo mettere anche qua La blaze powder Per poi fare quelle di strength Se non mi sbaglio Mi ero dimenticato di questo passaggio Quindi a questo punto Potrei mettere direttamente Anche da questo lato Altre pozioni Queste qua vuote Mettere qua dentro La netherworld E mi serve l'altra powder Quindi prendiamo E mettiamo direttamente Qua dentro questa Ho capito il mio errore ragazzi Fermi un attimo Dovevo mettere le pozioni Di night vision Prima qua dentro Poi con l'occhio fermentato Quindi ce la facciamo Direttamente al volo In questo momento Perché in realtà Per fare la pozione Di invisibilità Ci serve quindi Mettere qua dentro Queste qua Poi bisogna mettere All'interno Un pezzettino Di netherworld Quindi mettiamo dentro Altri pezzettini Di netherworld Come abbiamo fatto A questo lato E poi mettere Delle carote Invece qua dentro Dopo aver fatto Quelle awkward Ci vande Altra blaze powder Vero E qua Noi infatti Abbiamo ottenuto Le prime pozioni di strength Quindi queste saranno Veramente molto molto Ottime Perché ci danno Più 3 di attack damage E vi ricordate ragazzi Che questa ascia qui Toglie 12 e mezzo Cioè quindi ragazzi Andremo a togliere 15 e mezzo Con questa ascia Cioè per me È una roba Impensabile Fidatevi Ok ottimo Quindi qua stanno andando Intanto Quindi qua abbiamo fatto Altre pozioni di strength Qua abbiamo fatto Le awkward Quindi se noi adesso Iniziamo a mettere Le carote In questo modo Dovremmo ottenere Delle pozioni di night vision Però lasciamole di dentro Intanto Qua dentro Quindi abbiamo Degli archi Veramente OP Però tutti quanti Questi archi Tranne 1, 2 Quindi servono 3 libri Con unbreaking Almeno Quindi vediamo se abbiamo qua Degli unbreaking Allora qua abbiamo Un infinity che magari ci servirà Quindi prendiamolo Poi qua abbiamo un unbreaking Poi un unbreaking 1 Osserviamo se negli altri libri Abbiamo altri unbreaking Quindi qua ne abbiamo uno da 2 Poi osserviamo Unbreaking 3 Ottimo Unbreaking 3 Poi Qua abbiamo un protection Molto molto alto Qua abbiamo un altro unbreaking 1 Che potremmo unire Vediamo eh Perché ragazzi qua Più unbreaking abbiamo Meglio è Qua un altro unbreaking da 3 Ottimo E credo che il prossimo unbreaking Eccolo qua Ne abbiamo un altro in realtà Quindi qui da 1 Non ci possono anche non servire 1 2 Questo qua è infiniti Ci può servire Questo via E ne abbiamo giusti Perfetto ragazzi Vedete come si hanno messi Belli che organizzati Le vado di enchant Ottimo Allora intanto Quindi mettiamo un bel unbreaking No Questo qua è un infinity Che io metterei in questo arco Quasi quasi eh Anche se lo metterei in Quo con power 4 Quindi facciamo prima L'arco con power 4 Infinity E unbreaking E questo diventa una bomba nucleare Qua ci serve un power Su questo arco Ricordiamocelo Qua ci serve un altro unbreaking Quindi uniamo anche questo unbreaking E qua ci serve l'ultimo unbreaking Mamma ragazzi Ma che archi Ma che armi stiamo facendo oggi La big regina sarà veramente Molto molto fiera di noi Quindi Allora Ci serve anche qua un unbreaking Però perché Ho notato che un arco Era senza tutto Qua abbiamo un bel power 4 Da unire per esempio All'arco con flame Quindi uniamoli Poi vediamo Cos'altro abbiamo Un punch 2 Ci può servire Da dare all'arco Un power 3 Ottimo Un flame Che però già abbiamo Se non mi sbaglio Infatti già l'avevamo Qua possiamo unire Questo unbreaking Per fare un unbreaking 2 Poi fare un unbreaking 3 Per fare poi l'arco Con unbreaking 3 Poi power 3 Flame Punch 2 Cioè Mamma mia Ragazzi Che spettacolo Di archi Che abbiamo appena creato Allora Intanto che stanno cuocendo Anche le pozioni lì Vado a farmare Altri livelli Ma non ce ne servivano troppi Perché mi manca solamente Anche da sistemare Una spada in diamante Quindi andiamo direttamente A farmare un po' di livelli E dopo una bella Mezz'oretina Anche 40 minuti passati A spadare Scheletri e altre robe Abbiamo un po' di livelli Per sistemare L'ultima spada Che ancora non avevamo toccato E in più Qua abbiamo anche Dei lingotti Nederite Da appunto poter unire A questa spada Allora Con Unbreaking 3 Ci esce Smite 4 È il male Smite Ragazzi Togliamolo per favore E rimettiamo questa spada Qua dentro Sharpness 4 Ottimo ragazzi Vediamo Looting 3 Sharpness 4 Anche qua dentro Ci servirebbe un Unbreaking Ragazzi Capite cosa faccio Faccio l'ultima pazzia E la provo Faccio l'ultima pazzia Ragazzi Sharpness 3 Vediamo se magari Però ci esce con Vedete Secondo me così È già meglio ragazzi Perché tanto un Fire Aspect 2 Per esempio L'abbiamo qua dentro Da qualche parte Eccolo qua Fire Aspect 2 pronto Da poter essere unito A questa spada Qua Eccolo qua Un bel Fire Aspect 2 E già toglie abbastanza In più a questo punto Posso mettere Lingotti di nederite A tutti quanti gli oggetti Che abbiamo Qua dentro ragazzi Per quindi fare Almeno Quanti armi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Abbiamo 6 armi Potenziali OP E 6 archi Potenziali OP In più stiamo facendo Un sacco Di pozioni di strength Strength E un'altra qua Abbiamo altre pozioni di strength Ragazzi Siamo Iper 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 Coperti Ma non prepareremo solamente Queste pozioni ragazzi Perché abbiamo veramente Tantissime cose da provare Io a questo punto Già mi setto qua Il mio spawn point Perché almeno Nel caso io dovessi morire Sono già qua In più Allora Qua abbiamo altri libri sistemati E io direi Nel prossimo episodio ragazzi Sistemeremo le armature Di tutto quanto Il big regno Della big regina Secondo me ragazzi Spero che Questo episodio qua Vi sia piaciuto Perché per me Questo episodio qui È stato una bomba Perché abbiamo preparato Tantissime armi Tantissimi oggetti E vi sto facendo vedere Come sto preparando Il big regno Per questa guerra finale E io spero che voi Siete felici Nel mio lavoro Da big generale Siete felici Nel mio lavoro Da big generale Ditemelo Qua sotto nei commenti E noi ragazzi Ci vediamo In un prossimo video Da Marco è tutto ragazzi Iscrivetevi Attivate la campanellina Perché abbiamo appena finito Di creare Delle armi Letteralmente Incredibilmente potenti Ragazzi Ci vediamo in un prossimo video Da Marco è tutto Ciao ciao Scegliete uno Di due video Da avanti Ciao 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 ciao